Ciao Don Marco, ciao catechisti. Io sono Riccardo e mi piace molto suonare la chitarra. Oggi vi farò una canzone. A presto. A presto. No, 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 non sono in onda. Non ce l'ho neanche la moto. La onda, la moto. Non ce l'ho la moto. Sono venuto a piedi, anzi non so proprio ci sono qua dentro da due mesi. Ben arrivati alle notizie del nostro Tg del Catechismo. Il Tg che è sempre uguale, senza mai alcuna novità di ne... Ben arrivati al Tg del Catechismo. Pronti a iniziare con la prima grande notizia che vi do io in esclusiva perché il nostro telegiornale ha solo delle esclusive. Signori e signori, siamo in grado di darvi questa super notizia che solo noi abbiamo. Signori, è Pasqua. Ah, è Pasqua. Dove non mi dire, è... Signori e signori, è Pasqua. Ma che cos'è la festa di Pasqua? Non tutti lo sanno, non tutti lo capiscono, non tutti in altre parole. A noi non resta che allora vedere il servizio del nostro inviato. Vediamo il nostro primo servizio. E finalmente è Pasqua! Oh, non vedevo l'ora della Pasqua. Sì, le uova, sì, il pulcino, l'ovino kinder bono, il coniglio, che c'entra il coniglio, la colomba boni, il maialino... No, il maialino proprio no. La Pasqua c'entra con Gesù che è risorto. Sì, la Pasqua è questo, Gesù è risorto. Le donne entrano nel sepolcro e trovano un angelo che gli annuncia Gesù è risorto. Ma come, non vi ricordate? Abbiamo fatto anche il cartone. Come quale cartone? Questo! Ma tre giorni dopo, il primo giorno dopo il sabato, le donne si recarono al sepolcro per ungere Gesù, ma... trovarono il sepolcro aperto e il lenzuolo in cui era stato avvolto, piegato da una parte. Un angelo gli venne incontro. Esse si turbarono, ma l'angelo chiese loro di non turbarsi, piuttosto annunciò che Gesù era risorto e non dovevano cercarlo tra i morti. E così si ricordarono le parole di Gesù, come l'angelo aveva chiesto di fare, e gioirono profondamente di questo grande dono. Corsero per dirlo ai discepoli rimasti al cenacolo annunciando che Gesù era risorto, ma Gesù stesso apparve loro e si mostrò vivo e risorto, sebbene Tommaso non fosse presente e... e tornò per lui facendogli vedere i segni della passione. Tommaso e i discepoli esultarono e Gesù spiegò loro la missione che stava per affidare, di annunciare a tutto il mondo la presenza di Dio capace di amare, mentre lui sarebbe scritto al cielo per custodirli dall'alto e non abbandonarli mai più con la sua presenza, nel dono dello spirito e nella sua vicinanza di amore. Ed essi... E allora adesso ti ricordi, facciamo un riassunto, la Pasqua, la parola significa passaggio, passaggio di che cosa? Beh, è il passaggio per Gesù e in Gesù per noi dalla morte alla vita, Pasqua è il passaggio dalla morte alla vita, grande riassunto, sì, allora la Pasqua è Gesù che è risorto, Gesù è risorto, il che significa tra l'altro che nella Pasqua Gesù vince la morte, che bella cosa straordinaria, sì, vince la morte, in a moment! Momenda, ma come fai a vincere la morte se continuiamo a morire noi? Effettivamente è una domanda che dobbiamo porci, Gesù ha vinto la morte ma noi abbiamo ancora a che fare con la morte, soprattutto i faraoni, no, 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 i faraoni non c'entrano niente, per spiegarlo dovremmo immaginare che noi siamo sì tutt'uno, ma siamo formati da tre parti, il corpo, ho messo una mia fotografia perché voi possiate ricordarvene, la mente e una parte più profonda che chiamiamo cuore o più semplicemente anima, è la parte più bella di noi, è la parte più interessante di noi, è la nostra capacità di sognare, di vedere, di amare, vedete col corpo possiamo fare tante cose, ma la nostra testa può essere altrove, il cervello va da una parte mentre il corpo va dall'altra, come quando durante le ore di lezione voi siete lì col corpo ma la testa è altrove, e quando siamo innamorati, qualunque cosa facciamo non riusciamo che a pensare alla persona che amiamo, dunque noi siamo formati da corpo, mente e anima, però il corpo tende a invecchiare e a rovinarsi, a passare, non è fatto per durare, la testa a volte peggiora soprattutto con gli anni, non necessariamente, io sono già pazzo adesso, il cuore, il cuore invece resta sempre, quello che noi chiamiamo anima è il primo dono che Gesù nella creazione, Dio padre attraverso Gesù ci ha fatto, quando moriamo l'anima non fa altro che andare in cielo, quindi noi non rimaniamo vittime della morte con la parte migliore di noi, il nostro cuore sale al cielo, mentre quello che resta di noi, il corpo e la mente, noi lo mettiamo nella terra, e perché? Perché si fa così con un seme, aspettando il giorno in cui possa portare frutto, anche i nostri corpi risorgeranno, e arriveranno in cielo a raggiungere la nostra anima che sarà arrivata lì per quello, per stare con il Signore Gesù, con il Padre che ci accoglie, sì, già nella Ressurrezione i nostri cari, anche quelli che abbiamo sepolto, sono in cielo con il Signore e tutti i giorni ci stanno vicino, ehi, non è male, questa dunque è la Pasqua, è la festa in cui ricordiamo il passaggio per Gesù e in Gesù per noi, dalla morte alla vita, e l'uovo, e l'uovo, mangiatelo! Molto bene, grazie per questo servizio, prima di andare avanti abbiamo bisogno di sapere a che punto è la situazione nella nostra casa, abbiamo inviato addirittura lontanissimo dall'altra parte del mondo un nostro inviato a bevi l'acqua, chiediamo subito di resoconterci di come va la quarantena in quella parte lontanissima del mondo, chiamata bevi l'acqua, e sentiamo il nostro inviato, Giulio e Le Grandi, vediamo! Buongiorno dal Tg Catechismo, vi aggiorniamo sulla situazione della quarantena di casa, qui le regole date dal Presidente del Consiglio Conte si eseguono scrupolosamente, sono stati effettuati i primi spostamenti, si è passato dalla cucina al divano, dal divano alla poltrona e dalla poltrona a letto, il medio si mantiene costante su tutte le zone, con punti di calore nei pressi del forno e intense precipitazioni sotto la doccia, ora voltiamo pagina allo sport, si è battuto il record in casa grande di ingrasso da dolciumi, pizza e miniasso in genere, da casa grande è tutto, a voi studio! Grazie Gioele del tuo servizio e grazie di questa informazione che ci arriva dall'altra parte del mondo, cioè bevi l'acqua lontanissimo rispetto alle nostre abitudini, prima di andare avanti molti ci hanno chiesto come faremo con i battesimi, è una domanda importante, anche per questo abbiamo una soluzione raccolta in una foto, che vediamo insieme, guardiamo! Ecco quindi come sarà facile fare i battesimi, ma non perdiamo ancora tempo e andiamo con gli altri nostri servizi, allora parleremo di Tommaso che non c'entra con la scopa ficcanaso, ma con quell'apostolo che faceva fatica, avere dei dubbi nella fede è un problema, ci risponde il nostro servizio, vediamo! Ce lo siamo già detti ma ce lo ripetiamo ancora una volta, Pasqua, la parola significa passaggio ed è il passaggio per Gesù e in Gesù per noi, dalla morte alla vita, la Pasqua c'entra con Gesù risorto, grandissima cosa questa, e annunciamo anche che Gesù vince la morte, la distrugge in maniera definitiva, e abbiamo detto anche com'è difficile però credere questa cosa, lo hanno fatto anche i discepoli di Emos, che camminano con Gesù risorto e non si accorgono neanche di lui, nonostante Gesù a loro l'aveva detto, l'aveva detto anche a lui, ma anche a loro l'aveva detto, ma è faticoso fidarsi del Signore, ma perché è così faticoso credere nella Pasqua, nella Ressurrezione? perché la Pasqua è un evento totalmente nuovo, è un evento tipicamente di Dio, è normale fare fatica, io non sono Dio, faccio più fatica, e allora come si può fare? Beh, serve fidarsi, fidarsi anche della testimonianza degli altri, sapete che una cosa del genere era successa anche a Tommaso Apostolo, anche gli Apostoli fanno fatica, eh sì, quando Gesù va dai discepoli, Tommaso non c'è, li incontra, sta con loro, e poi Tommaso dice, no, io non ci credo, voglio vedere i segni, le ferite, e Tommaso poi avrà la grazia di incontrare Gesù, che è ritornato apposta per lui, insomma, da Tommaso impariamo che davanti alla Pasqua, eh, si fa fatica, ci sono i dubbi, ma i dubbi non allontanano da Gesù, Gesù è tornato apposta per Tommaso, Gesù non abbandona ciascuno di noi se abbiamo dei dubbi, i dubbi però non sono una scusa per dire non vado più, non me la sento, gian 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 gian, Tommaso torna insieme ai discepoli, non scappa, non va via, i dubbi insomma li hanno tutti, poi però bisogna sforzarsi e prendere una decisione, bisogna non arrendersi e provarci sempre a superare i dubbi, sempre, sapendo che a volte le difficoltà che ci sono, sono più colpa nostra, che non è che ci mettiamo tant'impegno, e non facciamo proprio le cose per bene, non ci credete, vi faccio vedere cosa accade quando non ci impegniamo sul serio, guarda qua, guarda, guarda, qui, e qui, oh tu, oh, no no no, io ve lo lascio guardare, guarda, e sì i dubbi sono così a volte sono frutto della nostra non voglia di farci aiutare perché siamo un po orgogliosi abbiamo deciso tutto noi insomma ricordiamoci la pasqua è un evento straordinario e divino e per questo è anche un po difficile è un evento straordinario e divino che cambia anche la nostra vita che può darci dei dubbi ma ci chiede di fidarci o anche solo di imparare a guidare pasqua ci ha dato la possibilità anche per colpa di questo maledettissimo coronavirus di capire che cosa è essere chiesa non l'avete ancora capito ve lo facciamo vedere in questo servizio su che cos'è essere chiesa guardatelo con attenzione vediamo il servizio vediamo in questi giorni abbiamo dovuto riscoprire che cosa significa vita e che cosa significa famiglia anche per colpa di quel somaro del coronavirus me lo togliete io quel coronavirus non lo so me lo portate via per favore grazie io non lo posso vedere abbiamo ragionato su tante cose anche su cosa significa essere chiesa no non l'avete fatto davvero lo facciamo adesso allora che cosa significa essere chiesa beh potremmo spiegarlo così come se fosse una ricetta quali sono gli ingredienti ebbene il primo ingrediente è gesù e il secondo è gesù e il terzo è ancora gesù quindi la chiesa è gesù e basta no per essere chiesa serve tanto tantissimo gesù e poi serviamo noi noi tutti noi grandi piccoli vecchi giovani grassi magri biondi calvi come me insomma e un po l'aveva detto anche gesù bisogna essere un po come la vita e non la vita e questa no la vita e questa dobbiamo essere come la vita e i tralci dove la vita di gesù scorre dentro noi e solo così la nostra fede sarà vissuta saremo chiesa quando ognuno di noi sta attaccato a gesù con una fede vissuta sul serio che genera una carità concreta non di quelli che parlano parlano e poi non aiutano mai gli altri se non quelli che vogliono loro quando vogliono loro e ma basta insomma e poi con gesù che scorre in noi noi riusciremo a dare una testimonianza viva di lui di gesù del vangelo insomma per essere chiesa abbiamo bisogno di gesù di una fede vissuta di una carità concreta di una testimonianza viva e per rendere forte tutto questo abbiamo bisogno senza dubbio della forza dei sacramenti della parola di dio e di tanta tanta preghiera oltre la carità come ci siamo detti ma come facciamo a vivere soprattutto i sacramenti in questo periodo anche se non molti soffrono per questa cosa beh abbiamo lo streaming e ma non è la stessa cosa vero siamo tutti d'accordo ma è anche la differenza che esiste fra non posso e non voglio una cosa è non andare a vivere i sacramenti perché non voglio è una cosa non poterlo fare per più di un motivo noi adesso viviamo le cose in streaming non perché sia il modo perfetto ma perché non possiamo fare diversamente grande riassunto allora partendo dall'idea della vite e dei tralci la chiesa ha bisogno di gesù e ha bisogno di ciascuno di noi per essere attaccati a gesù abbiamo bisogno della forza dei sacramenti anche in streaming in questo momento della parola di dio e di tanta preghiera solo così la fede diventa vissuta la carità concreta e possiamo dare testimonianza viva del vangelo dimenticare non scordandoci insomma che una cosa è non possa e una cosa non voglio vivere la chiesa nella sua pienezza insomma in gesù la chiesa ci raccoglie ci custodisce nella comunione un po come la mia cesira come chi è la cesira davvero davvero è lei attenzione perché dentro questo tg straordinario c'è anche un gioco un gioco che mi fa dare i numeri vi fa dare i numeri io i numeri un gioco sui numeri riuscirete a rispondere a tutte le domande se riuscirete a farlo avrete anche la possibilità di arrivare fino in fondo e magari di essere i vincitori vi lancio il gioco del servizio il servizio del servizio gioco le due parole insieme formano una frase di senso compiuto che adesso a me non riesce ancora ad arrivare vediamo di solito fa rima con asino cotto quale numero è si dice che dio è trino ed quanti sono i comandamenti dell'amore dati da gesù quanti discepoli restano sotto la croce di gesù quanti comandamenti restano se ne tolgo due è il numero degli evangelisti cioè da quanti libri è formato il pentateuco con quanti pani avviene la moltiplicazione dei pani le persone che compongono la trinità quante sono sul monte con gesù salirono pietro giacomo e giovanni quindi quanti apostoli rimasero ai piedi del monte bene quando avrete risolto il gioco potrete anche vincere il premio nel frattempo a me non resta che salutarvi e come vi saluto con una carrellata di alcuni dei vostri video che sono arrivati non essendoci qualche questa settimana ma potrebbe esserci uno speciale domenica quindi non dimenticatevi di mandare i video vi lascio con una piccola carrellata che non è un carrello della cop tirato in fronte alle persone ma un insieme di servizi e servizi non sono quelli igienici e dai servizi igienici impariamo anche i proverbi del tipo chi la fa chiuda la porta molto bene non mi resta che salutarvi e augurarvi ancora una volta buona pasqua ce la faremo buona pasqua grazie ragazzi qua c'è un pulcino che sta nascendo grazie ok Questa è Pasqua l'ho trascorso con la mia famiglia A pranzo abbiamo mangiato fuori in Tardino Dopo abbiamo giocato fuori per un bel po' Poi siamo rientrati, abbiamo fatto la doccia e siamo andati a cena Ciao Don Marco, oggi vi presenterò i miei appuntanti coronavirus L'ho costruita in questi mesi di quarantena Sì, iniziamo dal casco Il casco è usato di luce, per ogni condizione di luce Di telecamera, per fare video intanto che cammini Con anche i suoi appositi pulsanti La puoi tirare via da lì E qua dentro ha anche lo schermino Poi qua hai la carta per la musica E hai anche, se non sbaglio dovrebbe essere Eccola, qua per parlare con le persone Guardarle in faccia senza doversi toccare Cioè avvicinare a questa persona Si infila il casco così Allora, poi si infila la mano qua Sotto all'orologio E così ci ha fatto anche un porta-orologio sotto Non si vede Poi infili il portatello nell'altra mano Così Che è un altro tipo di smartwatch che ho inventato intanto Che all'inizio non c'entrava niente Poi piano piano l'ho adattato Alla mano, anti-tocco Questa mano serve per darsi la mano con le persone Senza evitando di andare a stretto contatto Allora si infila così E poi infili questo sotto E poi infili tutte le dita che sono assolutamente legate con una cosa Ciao 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 Com'è state? Bene E tu? Ma anch'io scusa non lo sai Sei mio fratello Io pensavo stessi male Bel complimento Ciao sono Nicole La mia creatività anche in quarantena non si ferma Ecco Oggi abbiamo costruito una pista fatta di biglie E di tubi con mattoncini Ecco adesso ve la mostro Ciao Ciao Buone Pasqua a tutti Ok Stiamo giocando a Monopoli Monopoli? A volte giochiamo anche a Tavu oppure ad altro Oppure alle macchinine Sì quando ci rimane del tempo vero? Perché ci danno i compiti Eh sì che ce li danno eh le maestre qua Anche lui però Anche lui c'ha dei compiti vero Palide? Eh sì Bene dai si fa quel che si può Bene Liana Dai leggici questo imprevisto Esegui lavori di manutenzione su tutti i vostri edifici Per ogni casa pagate 25 Per ogni albergo pagate 100 Non è un problema nostro perché non abbiamo ancora acquistato niente Bene Salutate Don Marco Ciao Don Marco Ciao Don Marco Buona giornata Buona giornata